Qui la parola grande è anche il rapporto alla comunità che deve vivere poi di quell'opera e se c'è disequilibrio quell'opera diventa inutile. In Sicilia poi abbiamo anche le mega opere inutili, penso per esempio alle dighe, in Sicilia ci sono un sacco di dighe che sono costate tra i 300 e i 400 milioni di euro già spesi, ne servirebbero forse altrettanti per completarne, penso alla diga di Blufi o a quella di Pietrarossa, che hanno anche devastato per certi versi un territorio naturalistico e ambientale, la diga di Blufi sulle Madonie per esempio. Poi la Sicilia che vive oggi un'emergenza stradale incredibile per la caduta del pilone sulla A19 Palermo-Catania e si scopre che non facciamo manutenzione di strade da anni, anche delle strade secondarie, abbiamo speso un sacco di soldi per fare delle strade che finiscono nel nulla, per esempio come quella del Ragusano sui Montiblei, una strada nuova di zecca, ha due corsie dove c'è tutto, c'è il garrail, ci sono le segnaletiche, ma finisce in una montagna perché poi a un certo punto non ci sono stati più i soldi per completarla. Quando si fanno le opere uno deve pensare a che cosa servono quelle opere, mentre in Italia e in Sicilia in particolare si pensa a spendere i soldi, e che è già una forma completamente diversa, si pensa a spendere i soldi perché così si fa un appalto, così si comincia ad avere relazioni con le aziende, con gli imprenditori e spesso a fare clientele che non si possono raccontare che sono il sostrato nero di quello che avviene con le opere. Purtroppo questo continua anche oggi, oggi non vedo una programmazione delle opere che davvero servono, e quindi il rischio di cattedrale nel deserto è di grande e inutile, è dietro l'angolo.